come si chiama tts? oh lazy links rega lazy links vai a passatempi palloso ma che cazzo è sto audio? i danneggi così ma è figo da quel nuovo pg bellissimo a me la cosa che a me la cosa che piace è che veramente stanno differenziando tutti i personaggi su rainbow six però io non faccio quel gioco il time to kill così basso il mio cervello sbrocca per aumentare il time to kill devi essere tipo iper preciso e devi avere mille sensi però tu anche lì e piccare sempre in test non ce la farei non ce la farei rega tilterei addio che schifo scusate è arrivato il cinese con la spesa qualcuno vuole prendere aria non capisco se sto tizio orco 2 fatto dire al piattello io poco poco c'è il tipo qua qua riga qua one shot l'altro c'è pure uno dietro c'è pure uno dietro disco me gusta perché ok c'è un poverone c'è un poverone ciao ragazzi venite tutti qui in piscina siamo in piscina devo dare una roba parte in piscina ok prendere pure power of 25 il drink a bordo vasca vai 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 io non vabbè no non era questa aspetta gianco sta affogando rega qualcuno lo dili su aiuto ragazzi facciamo un po di acqua c'è 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 un po di acqua cammino sulle acque oddio rega andiamo a l'urde power andiamo a l'urde mi chiamavo visto gabbo volare via aio voglio rifare una aio cazzo vabbè andate a fare in culo non luto più un cazzo vabbè andate a gatto ma dopo la dopo alle curve si va dritti ria c'è gente davanti arriviamo ria sta nominando come dei maiali quella slurp mi ha fatto male gabbo no no te l'ho rotto il caro rega te l'ho rotto il caro rega no zi no qual'è il vostro problema ragazzi mi potete colpi dr venga c'è un altro di cose va 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 prendiamolo cosa se non mi venivi addosso l'avevo presi tutti oh cazzo non ci saliva è delu che è salito lo spirito dopo tutto cazzo dopo tutto cazzo oh gente qui di fronte s175 stanno luttando qua qua dove c'è il camion oh fra come stai ma veramente qui di fronte qui di fronte qui di fronte sopra ok no no tu morano per favore per favore ok fatto ma non lo faranno mai come cosa diciamo che ninja ha tenuto l'epic per le palle per un po di mesi sì potrebbe essere una skin di gabbo correrebbe 75% più lentamente io voglio fare i personaggi non puoi comprerebbe più personaggi modificabili eh quello è bello ma pure i team delle squadre sportive come in tutti i giochi sportivi eh no l'ho visto ho visto io ho visto quelle di pub g ho visto le felpe di pub g ho sbagliato io ho visto le felpe di pub g per i team ogni team c'è la sua filpa in game col cappuccio power lo sai che escono le skinne delle armi i ciondoli dei fanatic sono troppo belle me l'ha detto già anche sono andato a vederle è fantastica avete i colpi del lanciar ragazzi avete dei ragazzi per il lanciar ragazzi un giorno vieni su rainbow che ti insegni un po' io un gioco vabbè cazzo vabbè no 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 prometto una volta ci vengo è solo che a me quel gioco mi triggera che io entro in una stanza e c'è il tizio che mi one tap ce l'ho davanti comunque i tizzi se non gli spariamo li andiamo vicini e li mangiamo una 105 li facciamo spaventare io non faccio ne manco sparo io corro dritto ragazzi cazzo mi ha detto allora sono lì e anche aersa ma il tuo e razzo no non è mio le granate però se sono qui a sinistra ce n'è uno ok qua dietro oi l'ho amato orca puttana non ce n'è reso conto però questo qui adesso mi tumora sicuro ragazzi in teoria vado su salta è diventato pomage niente sprati pomage tutto lui non posso editare cazzo mi stanno busciando stai co è bravo dietro 16 colpi sparati 18 sono caduto di sotto vabbè grazie per avermi toccato la vita pagherai con la tua ho un hp Gianco le hai presi tutti e due o solo uno? ero due? no è solo uno c'è un'altra allora ho sparato col cecchino da lì lontano è il mio raga sto robo adesso mi diverto io però non ho colpi cecchino li avete? bravo gabbo eh? ah sono diventato gabbo oh cazzo scusami lol mi ha spezzato oh no zano ti aggrava la gravità oh no mi sa che mica boschi perchè aveva con la skin raga qui 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 sotto? madonna avete colpi lancia granazzi lancia granazzi ho ucciso anche l'altro non mi servono più i colpi lancia ragazzi ragazzi a me serve della vita io ho solo due bozzette ho la jump come mettono la rift grenade? no che cazzo ti ho dato? che cos'è la rift grenade? come c'è la rift grenade? oh ho penaletti in chat non so può essere un'idea può essere finto come vero ho capito tipo nella 530 dicono che mettono la rift grenade bello deve essere finto perché crei un rift boh mi sembra una cosa un po' sbroccata eh sì effettivamente guarda col c'è della tv addosso scappi via dal pericolo mi servirebbero o un medicoz o un medicoz lascio due bozzette qua dietro così te le sdrink eh non sono lì non sono lì ok thank you faccio per i marci se avete razzi o li prendo eh ha spoilerato uno della epic su reddit capa le potrebbero mettere un bel un botto di cose su sto studio bello 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 la madonna che cazzo che cazzo stai dicendo da me? mi hai fatto H.S. Gabbo se quello lo riesci a prendere bello Gabbo ragazzi Gabbo on fire Gabbo sta scendendo eh è volato capo il danno capo il danno capo il danno regà quello nella casa di destra e non lo riesco a fare sono tantissimi la in questa zona gamba se mi lasci le pozze ragazzi a destra una sola me l'hai lasciata no è una doppio 27 non ha molta vita questo però lì non è altro c'è la vita oh scusami ma che ragazzi mi è arrivato in testa veramente 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 ma quello è matto ma quello lancerà di così ma da cazzo che mi spara ah 75 ma chi mi ha preso un altro ma se sono appena uscito arrivo aspetta 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 è morto ragazzi da 60 arriva arriva 1 dimmi se sale si si te lo dico te lo dico no che va 0,1 non ci credo ragazzi aiutate pao io sono a terra mi sto rinimando e dai guarda che mi ammazza per forza eh che è l'ovvio è l'ovvio oh zì è a porto tutto a porto sono andato in oltre istinto cattivo qua successe cose raga successe cose brutto io praticamente sono uscito da quella parete e mi sono beccato un colpo a run ho una launch pad ragazzi anch'io io ho le bounce ho le bounce io io non ho vita sperando ancora non arrivi ecca alla ecca alla non andate alle L ve lo dico stanno sia alle L che alla montagna ragazzi io provo a salire qui sopra che ce ne vedo due vengo tre 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 provo a seguirli da dietro io non posso fare credo credo che allora non siamo in zona ma ho le bounce credo che comunque non ci abbiano ne visto e stiano ancora di sopra il problema a me non è quello è il fatto che ho 26 HP ce l'ho davanti uno aspetta che non mi ha visto lo seguo non sparo finché non spari tu pronto vai mi fermo con loro c'è delle cure no purtroppo eccole purtroppo oltre le mie di kit non mi fa niente tieni delu ti do a metà di queste dobbiamo andare dietro no che cos'è non so dove sono qua sotto io ragazzi cosa è successo veramente ragazzi non so una partita così è morto è morto allora allora aspetta la possiamo glacciare la possiamo glacciare si accede in merda c'ho le bende eh ce l'ho anche io perfetto io sto facendo una pazzia con mille cecchini io mi tengo solo livi e basta io percattolo ho sfigato sul bordo della linea che sparava da lì se c'è le pozzette le stacco io tu stacchi le bende non le ho non le ho ok allora lasciate su no eh due ne mancavano si cazzo non è buono allora possiamo fare la cosa col doppio cecchino se vieni 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 vi vedi là sopra si pronto spacco eh spacco il muro sei pronto lo vedi quello sopra al legno vai 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 ricarico ora facciamo quello quella a mattoni occhio facciamo quella a mattoni ora aspetta aspetta che ricarico faccio quella a mattoni ora ce l'hai sotto mira quella a mattoni vai spostato sopra sopra Trump sopra Trump Tower ho visto ho visto qua sulla destra avevo una jump io raga ce l'ho ce l'ho tutte io a jump e altre ce l'ho tutte io allora si dobbiamo cercate fa quello io sto preparando la cosa se vogliamo fare la jump qua ok facciamo la jump aspetta avmetto via da qua fuori dal cazzo facciamo tutto il giro a che scendono occhio guarda che io ho zero di vita se mi lasci dietro della roba la prendo è quello che voglio fare ti fightano sotto gente qua sulla destra dovremmo andare in mezzo al bordello colpito uno vivi occhio 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 ti guarda ti guarda provo a bussare a questi ma che è un nemico occhio occhio perché c'è un altro che ti guarda no ha preso in testa subito con un colpo ragazzi figurati se non mi fa sta caricando e mi fa è l'ultimo paura mi sa dai buttata a terra quello si è l'ultimo sotto sotto che carino guarda non è proprio così lo vedo lo vedo catch sto bidone qui madonna sta scimmia fa mettere la trappola comunque mamma mia regà io sono morto perché non ho preso la pad mamma mia regà sto rosicando un bote è successo il disagio ciao